Giovani, in mezzo ai giovani, crescere vogliamo crescere. Tutti amici tra noi, in un mondo più libero, siamo un fiume di atomi, tutti pronti ad esplodere, ma c'è nascosta in noi, musica elettronica per voi. Ma era qua l'appuntamento? Sì, sì, è qua, siamo arrivati dieci minuti prima. Vabbè, allora provo a telefonare ad Anna. Hai capito che devi fare, hai capito? Sì, sì, dai, sì. Quella madre ti dice, ah sì, te lo passo subito, tu mi ridai il telefono, capito? Che ci penso io. Sei, due, quattro, tre, cinque, sette, due. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, c'è Anna? Ah, sì, sì, chi sei? Sono Michele. Ah, sì, sì, te la chiamo subito. Scusa, come hai detto che ti chiami? Michele. Ah, no, Anna, dorme, dorme. Ma sono le quattro! No, no, dorme, dorme, dorme. Basta! Bastarda! Ah! Ah!